La mobilità alternativa a Perugia la stiamo praticando da tempo, il sistema del minimetrone è un'eccellenza, non solo locale, nazionale, ma anche europea. Accanto al minimetro abbiamo anche riconvertito a Perugia tutti i mezzi pubblici di trasporto collettivo a metano. Oggi abbiamo altri ambiziosi progetti di mobilità alternativa per migliorare la qualità ambientale, la qualità dell'aria che respiriamo e prevenire la congestione del traffico nella nostra città. Stiamo lavorando per realizzare altri sistemi di mobilità alternativa come il car sharing, il bike sharing, un sistema nuovo che per la prima volta verrà ospitato anche nella nostra città.